belle donne buongiorno allora nuovo video in collaborazione con il gruppo di catty centos chi mi segue sa già che collaboro spesso con questo gruppo di youtubers che è gestito da catty che una ragazza dolcissima e come sempre ha avuto una bellissima idea e come sempre siamo un nutrito gruppo di youtubers ad aver aderito e come sempre vi metto qui sotto tutti i link ai canali delle ragazze che partecipano il video di oggi si intitola 5 prodotti col buco che è una cosa divertentissima significa cinque prodotti che abbiamo utilizzato talmente tanto da arrivare a toccare il fondo ea creare il buco no quel classico buco che si crea nei prodotti quando li si utilizza tanto e con il pennello si scava si scava si scava fino arrivare al fondo della confezione il primo il primo l'unico inimitabile incomparabile non può essere altro che lui il meraviglioso top di nyx che sul sito viene presentato come un blush ma tutte quante lo usiamo come prodotto da contouring quindi per definire gli zigomi farli risaltare dare forma e plasticità al viso come vedete qui c'è un bel buco perché comunque io lo utilizzo tantissimo non dico quotidianamente ma sicuramente spesso 3 4 volte alla settimana lo uso anche per i ritocchi eccetera si vede benissimo anche dal fatto che è completamente disastrato devastato sembra che sia passata una bomba e sicuramente quando non ce ne sarà più lo ricomprerò perché secondo me è perfetto è la terra fredda perfetta per ogni tipo di cartagione e per fare un contouring veramente facile veloce e molto molto bello molto visibile secondo prodotto col buco qui più comunque un buco direi che siamo al cratere proprio perché si tratta del fondotinta di shiseido quello in polvere quello estivo che si può utilizzare anche in spiaggia e che ha la caratteristica di essere waterproof come vedete questo non è mi è caduto un pezzo aiuto bene comunque tanto per farvi capire in che condizioni è questo non ha un buco è ormai è completamente consumato in realtà ce l'ho da due anni è un prodotto che anche se si c'è scritto che andrebbe consumato utilizzato entro 12 mesi però devo dire che ha resistito benissimo e comunque è un prodotto che io d'estate uso tantissimo molto buono veramente molto molto valido che posso usare anche e ve l'ho fatto vedere anche in un altro video come cipria sopra la base perché la fissa molto bene e fa sì che tutta la base resista bene al sudore al caldo e che dire questo è un prodotto fantastico e anche questo non subito perché comunque lo utilizzo solo d'estate ma lo ricomprerò sicuramente prodotto che da grandissime soddisfazioni veramente ottimo prodotto numero 3 è questo questo è una cosa fantastica si tratta del painterly di mac che viene normalmente usato come base sotto gli ombretti quindi comunque come un primer occhi io l'ho usato tantissimo come potete vedere sono quasi in fondo ce l'ho da due anni e mezzo perché è un prodotto che dura veramente tantissimo ne basta una briciola e copre interamente la palpebra uniformando il colore dando proprio quell'uniformità che serve per poter fare un trucco senza troppe discromie ed è molto buono anche come consistenza perché è asciutto è pastoso e quindi assorbe tutte le eventuali oleosità della pelle e che dire questo è painterly l'ho usato sino allo sfinimento come vedete adesso lo porterò a fine completa ho già comprato un altro painterly un altro pain pot che però è in una tonalità più gialla più adatta forse alla mia base di carnagione ed è soft ocre in effetti questo è un pochettino rosato e sul mio sottotono giallo la differenza si vede quando ho provato il soft ocre mi sono accorta che effettivamente era più adatto a me però sicuramente questo lo finisco perché in ogni caso è estremamente valido è un prodotto di grandissima qualità e io lo apprezzo tantissimo quarto prodotto col buco disastrato anche questo che sembra che gli sia passato sopra un treno è questa palettina di sciseido che ha qualche anno oltre a essere molto piena di ditate ma vabbè con i packaging lucidi c'è poco da fare le ditate anche se le pulite si vedono allora è una palettina occhi composta da tre ombretti qui c'erano i pennellini ma io li butto via perché tanto non servono e come potete vedere questi tre ombretti hanno non c'è proprio il buco buco che si vede la confezione però sono tutti abbastanza scavati uno è proprio ed è questo qui panna non so se riesco a farvelo vedere però è proprio tutto rotto è rimasto giusto un velo sottile e che dire è una palette che ovviamente come potete notare ho usato tantissimo perché ha dei colori bellissimi che stanno molto bene con gli occhi scuri sono abbastanza pigmentati satinati quindi non troppo shimmer ma nemmeno opachi e insomma mi sono sempre piaciuti molto questo è il prugna è un prugna chiaro che tira leggermente al viola e bellissimo sia nella piega dell'occhio che su tutta la palpebra questo è il pesca che poi in camera sembra più giallo in realtà ha anche un pelo di sottotono rosa e questo è il panna che ovviamente fa il suo lavoro egregiamente cioè sotto l'arcata sopraccigliare nell'angolo interno e al centro della palpebra per creare il punto luce più evidente rendere più evidente il globo dell'occhio solo con questa una matita nera un mascara si fa un trucco occhi veramente completo e molto bello da vedere si può fare sia pesante pesante sia più evidente che tenersi molto leggere per una cosa da giorno molto tranquilla non so se la ricompro però sicuramente è stato un acquisto molto indovinato molto giusto ultimissimo prodotto col buco una delle mie palettine preferite che anche questa ce l'ho da un paio d'anni è una palettina di bare mineral e si chiama la variante colori si chiama the after party e questi sono i colori quindi c'è un top un nero un azzurro più chiaro e un azzurro più scuro adesso ve la faccio vedere se riesco aprirla eccola qua allora questo è il top questo è il nero che è leggermente brillantinato questo è l'azzurro che se riesco ha appena raggiunto il livello del buco non so se riuscite a vederlo qui siamo arrivati appena da poco tempo a toccare il fondo e questo è l'azzurro più chiaro molto luminoso da usare per i punti luce che invece ancora è ancora bello pieno perché non l'ho usato tanto comunque questa è una palette fantastica innanzitutto per la qualità dei prodotti perché sono ombretti con una bellissima scrivenza una bellissima consistenza quasi pastosa niente sbriciolamenti niente polvere che gira sono belli compatti quasi cremosi non del tutto è chiaramente però sono hanno una bellissima consistenza compatta a me piace molto realizzare dei trucchi con questa palette partendo dalla base top purire l'angolo esterno con un po di nero brillantinato e creare il punto luce al centro della palpebra con l'azzurro mentre invece questo più chiaro lo uso solo per l'angolo interno dell'occhio comunque una palette bellissima vi faccio vedere con l'altra mano gli swatch questo è il nero che come vedete ha dei piccolissimi brillantini all'interno questo è il top opacissimo molto bello elegantissimo questo è l'azzurro che ha raggiunto il buco che è stato consumato e questo invece è l'azzurro più chiaro quasi bianco da usare per i punti luce ed è un po più shimmer bene bimbe allora questi erano i miei cinque prodotti col buco io ringrazio ancora Ketty per questa bellissima e divertentissima idea per avermi invitato a partecipare spero che il video vi sia piaciuto se avete dei prodotti col buco di cui avete voglia così di chiacchierare mettete un commentino qui sotto scrivetelo insomma in qualche modo fatemelo sapere e niente guardate anche i video delle altre ragazze che hanno partecipato io vi mando un bacione e noi ci vediamo sicuramente al prossimo video ciao